La creatina, quando e quanto assumerne? Allora non è fondamentale un momento preciso della giornata per assumere la creatina però io posso consigliarvi tra l'intra e il post workout perché presa in quel momento velociza i processi di recupero e di supercompensazione è importantissimo assumerla assieme a dei carboidrati perché quest'ultimi migliorano la veicolazione della creatina per quanto riguarda il dosaggio io consiglio un'assunzione che va dai 3 ai 7 grammi al giorno la grammatura può variare in base al vostro peso corporeo e anche a quanto vi allenate la creatina lavora quando è satura all'interno delle cellule muscolari e per un'assunzione media di questo tipo ci vorranno dai 20 ai 30 giorni si può assumerne per un periodo limitato una quantità maggiore ma io lo sconsiglio perché ne sprecherete molta in quanto l'eccesso verrà espulso dalle urine se volete ancora un altro video sulla creatina mi raccomando lasciate un like e seguitemi grazie 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 grazie